Le acque dei nostri comuni sono delle acque molto buone, sono molto controllate. Di per sé io dico di scegliere un'acqua in bottiglia a una persona che magari dove abita l'acqua del rubinetto magari non gli piace proprio per una sensazione anche gustativa, allora può sceglierne altre. Quando ne sceglie un'altra, prima cosa da guardare è io consiglio sempre di andare e di comprare 4-5 acque diverse.